eccoci e bentornati sul mio canale riprendiamo con i video di aggiornamento su call of duty black ops 3 perché arriva un nuovo video dopo la mimetica esclusiva blood valentine che vi ricordo sarà disponibile fino al 16 di febbraio all'interno di call of duty black ops 3 perché la treiarch tramite il proprio profilo twitter ha annunciato un altro evento sempre in vista del giorno di san valentino praticamente attivato proprio ieri i doppi punti per i parti avete capito bene se vi trovate in parti di due o più persone sul multiplayer o nella modalità zombies di call of duty black ops 3 riceverete i doppi punti esperienza questa iniziativa della treiarch ha preso piede ieri 10 febbraio e terminerà martedì mattina alle ore 9 quindi ragazzi se dovete livellare su zombies e multiplayer giocate in gruppo così avrete i doppi punti fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e se avete provato anche la nuova mimetica di san valentino la blood valentine che potete vedere con un mio video dedicato sul mio canale youtube e noi ci vediamo con tanti nuovi video se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale